È indubbio che un aumento delle sedi permetterebbe di incentivare e velocizzare le vaccinazioni, oltre a ridurre il disagio per gli spostamenti e la struttura ospedaliera di Fossombrone è assolutamente baricentrica rispetto al territorio della provincia di Pesero Urbino. Lo dimostra anche la scelta di realizzare proprio lì il centro di stoccaggio delle dosi per tutta l'area Vassa 1. Sono le parole del sindaco Gabriele Bonci, che ieri ha inviato una PEC alla Regione e all'Asur per ribadire la necessità di mantenere ed anzi di ampliare l'operatività di quel punto di vaccinazioni già attivo per i sanitari, i volontari delle cooperative, ma anche per gli operatori del settore e i docenti universitari. Noi in realtà già dal 15 febbraio in Consiglio Comunale abbiamo approvato una mozione presentata dalla minoranza e mendata dalla maggioranza in cui si chiedeva di lasciare aperto il centro di vaccinazione anche per la popolazione indistinta che all'epoca si parlava solo degli over 80. Sappiamo che da ieri è partita anche la pronotazione per la fascia dai 70 ai 79 anni e ovviamente la priorità è quella ribadita in tutti i contesti di vaccinare quanta più gente possibile nel più breve tempo possibile compatibilmente con le dosi di vaccino disponibili, cosa che dovrebbero essere, a quanto ci dicono, un problema in fase di soluzione. Non si tratta di campanilismo, ha precisato il primo cittadino, ma in base ad elementi oggettivi credo che l'ospedale di comunità di Fossombrone possa realmente essere un punto di riferimento perché oltre ad essere baricentrico ha anche gli spazi necessari. Con un piccolo spostamento logistico, spostando queste vaccinazioni infantili all'interno dell'ospedale già abbiamo visto che ci sono degli spazi che potrebbero essere opportuni anche lasciando loro un ingresso riservato e dedicato, ci consentirebbe di liberare appunto questa palazzina che potrebbe essere adibita alla vaccinazione alla popolazione indistinta. E peraltro sempre a tale scopo ho sondato qualche giorno fa ai medici di famiglia, si parla di coinvolgere in questa iniziativa, che si sono dichiarati ben disponibili a collaborare e il fatto di poterlo fare eventualmente nell'ospedale di comunità consentirebbe loro di avere gli spazi necessari perché c'è anche un problema logistico. Oltre a poter utilizzare eventualmente, e sarebbe questo auspicabile, la collaborazione del personale infermieristico ed amministrativo perché la parte burocratica è piuttosto macchinosa. Lei anche questa mattina ha aggiornato sui dati riferiti ai contagi nel vostro comune, qual è la situazione? Pare sia migliorata? Sì, lo faccio tutti i giorni, è una cosa che la gente mi chiede costantemente, i dati sono in miglioramento, diciamo che ad oggi stamattina avevo 30 positivi e 45 persone in isolamento e circa 15 giorni fa era circa il doppio, sia per quel che riguarda le quarantene che i contagi. Lo dimostra anche il trend, la regione ci manda un report in cui ci dà l'andamento delle ultime tre settimane e vedo che per fortuna Fossumbrune negli ultimi settimane è sempre in calo. Ribadisco, adesso non voglio cantare vittoria, dobbiamo continuare a stare attenti ovviamente, mi auguro veramente che questi vaccini si possano cominciare a fare su larga scala, in maniera veloce, perché poi abbiamo visto, guardavo anche il notiziario per quel che riguarda la Gran Bretagna, dopo il lockdown, ma soprattutto dopo una dose massiccia di vaccini, ieri mi pare che abbiamo registrato zero decessi a Londra per la prima volta, per cui evidentemente funziona, noi per cui dobbiamo fare in modo che si riesca appunto a vaccinare il più velocemente possibile, per cui ecco, massima precauzione, continuiamo ancora a tenere la guardia alta, sperando che poi si possa tornare a un pseudo normalità, diciamo così.